salve a tutti ragazzi e ragazze del vostro dark house 92 oggi siamo qui con questo video di action perché praticamente girando sul web ho visto sto video che ho detto mamma mia che c'è di dover forse una reaction io comunque vi ringrazio come sempre per il supporto perché comunque sto vedendo che molta più gente molto più attiva nel mio canale e sono felice anche per questo mi raccomando arriviamo a 200 like per una prossima reaction io vi lascio direttamente al video e ci vediamo alla prossima ciao belli ok vediamo un po faccio partire abbiamo chiesto ad alcuni bambini di interpretare una scena d'amore per un provino una scena che deve finire con un bacio e poi con una scusa le abbiamo lasciate da soli a provare ansioso questa è fortissima hai capito hai capito non lo so ma tu hai capito io una ce l'ho è quella va bene però c'è in effetti ha ragione allora chi ci trova con chi in generale non mi piace non mi è mai piaciuto ma se io lo fai tu c'è io so tu 2017 o 2017 è il maschio che te lo lascio a prescindere ve lo dico uno già di solito tu come sai timido e non timido no io sono timido qualcuno parla tanto c'è chi invece è timido timido vabbè come faccio mi chiedi ma tu sei fidanzata così 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 oddio cacchio c'è non ce la fai per un bacio mamma mia o è che sia tutto questo granchè un bacio boh ma buono però così 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 non mi vede proprio non so perché dicendo che non mi ero manco preparato ora non ho l'idea te lo giuro io ti voglio tanto bene io ti piaccio e voglio tanto bene io ti piaccio no è fighissimo ragazze mi stai simpatico potresti stare ancora più simpatico e beh io la prima mostra davvero fatta e io ti viaccio così azione meter per ne lavoro pronta? no 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 che bella che fibrillazione prego ricca io penso che il bacio lo deve dare il maschio prima perché il maschio poi protegge alla femmina giusto che carini però ragazzi c'è qualcosa di sensazione c'è vi entra quella sensazione dentro proprio boh però la femmina è più più di carattere no sti cazzi no il maschio è più di carattere perché la femmina è più di carattere ragazzi scrivetemi nei commenti chi è più forte o la maschio o la femmina ma io non l'ho capito cioè pure i bambini si sono metto a dire se è strunzato boh sarei più forte sarei più forte sarei più forte di venti bene poi da questo momento ti ringrazierò per sempre magari ti posso dare il numero ok ci vediamo fuori scuola? si ci vediamo dopo e ciao dopo un bacio non esistono estranei però per noi di essere fidanzati dobbiamo uscire dobbiamo andarci in appuntamenti dobbiamo stare sempre vicini poi dobbiamo uscire sempre devi stare sempre con me ma che è tutto sto bordello cioè ovviamente il ragazzino ha detto ma che è tutto questo casino cioè tutto questo bordello no comunque veramente cioè il video in sé è qualcosa di eccezionale poi bah comunque ragazzi eeeh niente che vi devo dire io sistemo qui la webcam eh 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 sì perché ovviamente raga io uso OBS quanto sono grande o gigante adesso comunque ragazzuoli se il video vi è piaciuto comunque io ho fatto una sorta di reaction più o meno a questo video anche perché l'ho guardato e ho detto mamma ma c'è qualcosa di eccezionale veramente io veramente ragazzi vi ringrazio per la visione eh vi chiedo gentimenti di lasciare un like se vi volete iscrivere al canale potete farlo tranquillamente attivate la campanellina che non vi costa nulla e se arriviamo a 200 like farò altri video di questo genere reaction ad altri video e tutta sta roba qui grazie ancora per il supporto dal vostro Dark House 92 è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao belli ciao heheheh yoohoo